Filippo Zana, il tuo Giro d'Italia fino a questo momento sta al servizio della squadra soprattutto, sei soddisfatto intanto? Sicuramente, penso che abbiamo fatto un ottimo inizio di Giro d'Italia, quindi speriamo di continuare così e vediamo giorno per giorno cosa possiamo fare, comunque sono veramente contento del mio Giro finora. È bello vedere la tua maglia tricolore spesso nelle prime posizioni, hai una tappa tra le prossime in cui magari puoi metterti in luce anche a livello personale? Ma vediamo giorno per giorno perché abbiamo visto anche ieri che si pensava a tutta un'altra tappa insomma, invece è arrivata la fuga e insomma anche dietro gli uomini di classifica hanno un po' aspettato, si guardano uno con l'altro, quindi ogni giorno sì, diciamo che è dura da vedere come potrà andare, però dai cerchiamo di farci trovare sempre pronti e vedremo dai. Le gambe non sembrano buone, quindi speriamo che ci assistino fino alla fine. Sicuramente la tappa di oggi è insidiosa, come verrà affrontata anche dalla vostra squadra? Ma sicuramente oggi è una bellissima tappa, possiamo far bene quindi cercheremo di farci trovare pronti. La promozione nel fare il Giro d'Italia con questa maglia tricolore? Ma sì, penso sia un giro veramente speciale per me, è bellissimo portare questa maglia nelle strade d'Italia, tanto tifo ringrazio tutti i tifosi che mi incitano e spero di portarla al meglio in giro per l'Italia. Grazie.